Questa informazione venuta fuori così è stato uno shock perché ovviamente sono cose intime, personali, però se serve per scoprire la verità noi siamo d'accordo anche su questo. Comunque il certificato medico, la cartella clinica, noi ce l'avevamo già il 3 di gennaio del 2022 perché Sebastiano ne aveva parlato e l'aveva mostrata a Gabriella. Ovviamente non sapevamo dell'intercettazione, non sapevamo che lui in quell'intercettazione, cosa che non ha detto a Gabriella che pensava forse di Claudio e non sapevamo che lui era spaventato perché nei hard disk probabilmente ci sono foto che lui ha fatto con Liliana e Claudio. E lui si premura di non far sapere alla controparte, cioè ai nostri evocati, di queste fotografie. Allora la gravidanza da cartella clinica parla di interruzione nel gennaio 1993. La gravidanza risale a qualche mese prima quindi siamo ancora nel 92. Liliana in quel periodo frequentava Claudio? Da quello che dice Claudio loro si sono presi, si sono lasciati, si sono ripresi. Non si sono mai persi di vista ma credo a Claudio perché noi quando abbiamo saputo di questa cartella clinica abbiamo messo sotto torchio Claudio e lui ha sempre detto che se anche fosse stato suo lui non ne sapeva niente. E comunque in quella data Liliana era già con Sebastiano. Quindi potrebbe sorgere questo dubbio? Io credo che è più facile che sia di Sebastiano perché appunto in quelle date loro erano insieme, pochi mesi dopo sono andati, prima hanno vissuto un periodo su dalla zia e poi sono andati a abitare da soli. E poi se consideriamo il fatto che Sebastiano era ancora sposato, se fosse nato questo bambino che cognome avrebbe portato? Liliana desiderava figli? Io penso che come tutte le donne se sentono di avere questo desiderio lo vogliono realizzare. Quando le si faceva dopo negli anni la domanda perché non avete avuto figli, lei diceva sempre lui ne ha già due. Questa era la sua risposta. Sebastiano ha sempre parlato di un segreto anche nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Liliana. Parliamo dei primi giorni di gennaio del 2022. Il segreto erano le cartelle cliniche dell'aborto. Questo era il segreto. Quello che però lui non ha fatto non l'ha detto al suo avvocato e credo che non l'abbia detto neanche gli inquirenti. Perché agli inquirenti il 9 marzo non fa il nome di Claudio, avendo questi sospetti? Ma lui non lo fa neanche il 14 quando va in questura a denunciare la scomparsa. Se lui aveva questi sospetti di questa persona, chiamiamolo come volete, insomma, lui dice un amico, un conoscente, chiamate come volete. Però era una cosa da dire in questura quando è andato a fare la denuncia di scomparsa. Perché se io so che mia moglie si vede, anche per stirare le camicie, come dice lui, come l'ha detto anche a me a casa mia tre giorni dopo, io agli inquirenti glielo vado a dire. Non vado a dire soltanto alle persone c'è tutto nei cellulari di Liliana. Però in questura non li porta. Lui voleva punire Liliana perché lo stava lasciando. E lui in questi 27 mesi sta punendo Claudio perché gliela voleva portare via. O gliela aveva già portata via. O gliela aveva già portata via.